Che cos'è Condifesa? Un consorzio di imprenditori agricoli con oltre 1500 soci che si occupa da più di 40 anni di gestione del rischio atmosferico stipulando polizze collettive con le maggiori compagnie assicurative. Grandine, vento forte, gelo, eccesso di pioggia, siccità minacciano periodicamente le produzioni agricole e quindi il reddito delle aziende. Come ti sentiresti se potessi gestire queste cose sia recandoti nei nostri uffici sia comodamente da casa? Cosa fa Condifesa per te? Negoziamo le coperture assicurative con tutte le migliori compagnie operanti sul mercato. Condifesa è in grado di suggerirti l'assicurazione migliore perché è a modo di poterne confrontare e leggerne tante. Una selezione approfondita. Assistiamo i soci in ogni fase del rapporto assicurativo scelto, dalla stipola della polizza alla perizia fino al risarcimento del danno eventualmente subito. Forniamo supporto continuo. Gestiamo l'iter per l'ottenimento del contributo statale e comunitario a riduzione del premio assicurativo da pagare. Condifesa fa tutto. L'agricoltore alla verifica del danno può godere di moltissimi servizi diversi. Ci hanno scelto più di 1500 agricoltori per un valore complessivo di 270 milioni di euro di valore assicurativo. 25.000 ettari di raccolto assicurato. Siamo a Piacenza ma ti assicuriamo ovunque. Noi domani voi veicordo che fai! Noi domani Noi domani sono